Buongiorno a tutti dagli U65. Oggi è il 4 luglio 2020. Buona festa dell'indipendenza americana a tutti i miei iscritti americani. Bene sì, bene sì. Ho anche degli iscritti americani. Non solo uno, non solo quello che pensate voi, ma ne ho anche qualcun altro che mi ha contattato direttamente dagli States. E quindi un saluto a tutti gli americani. Oggi giornata di Independence Day, giornata di Derbissimo. Derbissimo, il derby della Mole. Uno dei grandi derby italiani, uno dei grandi derby storici. Sì, perché ovviamente molti di noi non ricorderanno il grande Torino che giocava contro la Juventus. Una squadra capace di avere il Torino dieci nazionali e l'unico nazionale era bianconero. Un derby che spesso la mia squadra ovviamente perdeva, perché quella era una squadra quasi ingiocabile. Grande Torino. Vogliamo ricordare in tempi più recenti che ho vissuto il Torino degli anni 70 di Gigi Radice, che vinse lo Scudetto del 76, un decennio caratterizzato da derby, dove chi vinceva i derby probabilmente si giocava lo Scudetto. Un anno vissero loro sul filo dei punti l'ultima giornata. Un anno vincevano nello Scudetto. 51 a 50 punti su 60 a disposizione. Vuol dire che le squadre piemontesi erano il top. Il top. Motivo per cui io auguro a tutti Granata, da tifoso bianconero sportivo, di tornare ai grandi fasti e essere ancora una concorrente anche per il campionato. Il calcio ha bisogno del Torino e che il Torino non faccia soltanto la comparsa o una squadra di seconda fascia. Deve tornare ai fasti ai tempi di casa grande in cui fecero la finale della Coppa UEFA, perdendola contro l'Ajax? Sì, Torino deve tornare a quando vinceva le Coppa Italia, a quando vinceva gli Scudetti. Il derby deve ritornare derbissimo, derbissimo tra due squadre che in campo si danno battaglia. Stasera si danno battaglia, spero, non battaglia di calci. deciso. Purtroppo sarà un orario disgraziato dove la farà da padrone il caldo perché evidentemente la Lega voleva questo trabocchetto per la Juventus. Di tante partite che avremmo potuto essere messi alle 5, faccio un esempio, Juventus-Lecce, hanno scelto ovviamente il derby che dall'inizio della disegnazione, la da me è vista come un trabocchetto. Un trabocchetto, quindi un grande in bocca al lupo, ovviamente, alla mia squadra che vinca il derby, che sia un derby corretto, che sia un derby senza polemiche. Che dire a tutti i miei tifosi, tutti i miei iscritti, bianconeri e non, fino alla fine forza Juventus, perché vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Forza Juve!